Covid-19 Sicilia, 2.189 nuovi casi, 8.862 guariti, 23 morti a Siracusa, 159 contagi. Sono 2.189 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.513 tamponi processati. Ieri erano 3.737. Il tasso di positività è del 16,2% in un momento rispetto al 16% di ieri. Le vittime e i guariti e gli attuali positivi. La Sicilia ha il sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 119.546 con un decremento di 6.696 casi. I guariti sono 8.862, 23 le vittime e portano il totale dei decesse a 11.857. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 822, 29 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 44, 2 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda la situazione nelle singole province, a Palermo 387 casi, a Catania 469, a Messina 433, a Siracusa 159, a Trapani 234, a Ragusa 149, a Caltanissetta 95, a Grigento 219, a Enna 44.